e urca benvenuti a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di fortnite ci ritroviamo qui signori per andare a completare la primissima missione di questa settimana numero 5 comunque parte 5 dell'incarico di sintonia dunque ragazzi abbiamo qui la plic potete andare ovviamente o qui oppure direttamente dentro morasteri mischiati prendiamo la plic e vediamo che cosa dobbiamo fare scava nei cumuli di terra per trovare il frammento della reliquia guardate qua ragazzi eccolo qua il fucking frammento della reliquia dunque dove dovevo andare vediamo subito la mappa ha esattamente sopra la plic giustamente dentro coso dentro morasteri fioriti anche il cristalistico ma che sfiga che c'ho anch'io però eh andiamo lì ragazzi e via 90 metri dunque ragazzi eccoci qua qui vedete le vedete in mappa ragazzi i puntini eccoli qua belle gagliarne dunque 1 2 dovevo trovare la reliquia dunque ci deve dare a culo ragazzi vediamo qual è eccola qua perfetto e via perfetto la garanzia e ora andiamo ad armonizzare il frammento perfetto il frammento nomicon ma guarda questo che ha perduto qua dentro ragazzi no parole ma che è warzone ragazzi ma è raccapparato dentro il cespuglio vabbè andiamo a 500 metri ragazzi ci vediamo direttamente lì ed eccoci qua ragazzi lo vediamo lì in alto il nostro caro reliquiario inferiquiario di diablo immortal da eh armonizzare dunque prendiamo la rossa reliquia e la o meglio il frammento eccolo qua armonizza il frammento della reliquia perfetto due rimasti molto bene poi c'è un n che vediamo di uccidere ti riesco a uccidere zio sveglia perché non ci credo ragazzi full vita io non avevo neanche 100 tra un po' let's go up proprio e dai dunque ragazzi andiamo direttamente a fare configurare mi ha 5 fasi questa qua probabilmente saranno solo 3 incarichi eh ah no 4 incarichi mi ha 5 fasi al fatto qua bene abbiamo già un perfetto applico del dispositivo direttamente qui vicino dunque ragazzi ci vediamo direttamente nel prossimo video con appunto la fullata hyper double dai ragazzi a tra poco